e amici appassionati di calcio un saluto dal vostro Piero Gipardo immagini in diretta dal Wanda Metropolitano De Rossi Palla che esce Tuch rimessa laterale Anita Vizel Cavani Punta la porta Bravo qui a smarcarsi Anita Tocco orizzontale L'arbitro facendo di proseguire c'è qualche dubbio Beh Da rivedere E c'è l'intervento dell'arbitro Brutto passaggio Pallone regalato Intervento duro ma corretto Posizione ideale Bravissimo qui il difensore che recupera Hernandez Cavani C'è il lancio sulla fascia Vizel Buon possesso Palla Cercando spazio Cercando spazio Attenzione perché è pericoloso Dan Ottimo qui il Tiki Taka Hernandez Vizel Può metterla in mezzo Recupera una palla Può ricevere una posizione interessante Può metterla da lì Perma l'attaccante E sventa il pericolo De Rossi Controllo efficace Nonostante la molta pressione Potrebbe crossare Sbagliato qui il passaggio Pallone irraggiungibile Frizz C'è spazio per andare Palla schizza via dopo il contrasto Dan Può colpire da lì Spazio per il cross Possono passare in vantaggio Non riesce a bloccare Attenzione Netta la posizione di offside Lo vede? Ho stesso palla per gli avversari Lancio fuori misura Palla recuperata senza problemi Perdono palla banalmente Deve appoggiarla verso il portiere Portiere che la combina grossi Ha l'invio sbagliato Attenzione Hanno aperto le marcature con questo gol E vedremo se avranno altri spazi Per continuare a colpire Non credo sia finita qui Mi aspetto una reazione avversaria Dovranno sudare Se vogliono portare a casa la vittoria Fritz Vediamo cosa fa ora Tiro le spinto Ripartono in campo aperto Pallone invitante Grand dribbling Ottimo intervento Senza fronzoli Capisce tutto il difensore Ottimo intervento Buona qui la lettura del difensore Palla consegnata agli avversari Anita Il pallone è uscito Sarà rimessa Da lì può crossare È in buona posizione Fritz Suggerimento interessante Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Ha riconquistato palla Bravo qui a smarcarsi Spazzano senza problemi Crossa verso il centro Hanno messo il pallone in aria Ma senza precisione Cavani Regalano palla agli avversari Fritz Può ricevere una posizione interessante Buona riconquistione qui Vediamo cosa inventa ora Si porta la più due con questo gol Un margine abbastanza rassicurante Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimetta Hanno un discreto vantaggio da gestire Questo gli permette di non affrettare i tempi E lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa Intercetta bene il passaggio E non era facile Due minuti ancora da giocare Vediamo cosa ci riserverà l'extra time Attenzione perché è pericoloso Posizione ideale Conclusione murata E dopo 45 minuti di gioco Dunque 2 a 0 il punteggio Lola che arriva Comincia ora il secondo tempo Cavani Vizzel Buon possesso di palla Anita Possesso palla per gli avversari Occhio al traversone Traversone che si perde Senza possibilità Recupera palla Intercettando bene il pallone Baragna metri Terma l'azione Recupera il pallone Mettendosi sulla traiettoria giusta De Rossi Tocco verticale interessante Può colpire da lì Arbitro che ferma il gioco Posizione defilata Probabile che decida di crossarla nel mezzo La tocca a Razoterra Pallone invitante Distinto il difensore Spazza via Respinta col corpo Si riprenderà con un falo laterale Vediamo cosa fa ora Riconquista il pallone sulla corsia Cerca il sostegno dei compagni Prova In porta E il portiere Recupera il pallone Buone Occhio al pallone filtrante Para senza nessun problema Qui il portiere Hernandes Dan Buona qui la lettura del difensore Palla spazzata via dal portiere De Rossi De Rossi Il tempo è dalla loro parte Stanno portando a casa una vittoria impensabile alla vigilia Venivano dati per sfavoriti prima di questa sfida Ma finora hanno dimostrato il contrario Pizzela Buon tiki-taka quest'oggi Fin qui Cavani Gran palla A spazio per tirare Risultato che torna in qualche modo in bilico Grazie a questo gol Partita che incredibilmente si riapre E sembravano spacciati Invece Stanno rendendo protagonisti Di una grande rimonta Ponteggio cambiato Ora siamo sul risultato dei due euro È in buona posizione Hernandes Buon intervento del difensore Palla in palo laterale Lo vede Interviene bene E spazza Pizzela Anita Vado a bordo campo Allora da Matteo Barzaghi Per sapere a questo punto Quanto manca alla fine 15 minuti Ancora da... Buon pallone filtrante Grande parata Pallone in mezzo La tocca per un compagno Comoda uscita del portiere Aumenta ancora l'intensità della spinta Dei tifosi di casa Che vogliono trovare subito il gol Lo stadio è una vera bocca Prova la botta Tocco sotto elegante Che scavalca il portiere Cucchiaio perfetto Era in nulla da fare per il portiere Siamo 3-1 Magari non finirà così Possesso palla per gli avversari E l'arbitro lascia giocare Sì ha concesso il vantaggio Attenzione perché è pericoloso Altro possesso perso Si fanno vedere i compagni Fritz Può colpire da lì Occhio al tocco preciso per servire il compagno La spazza via In calcio d'angolo Lettura perfetta E palla recuperata Io andrei da Matteo Barzaghi a bordo campo Per sapere a questo punto Quanto manca alla fine Appena 120 secondi Ci dividono dal novantesimo Bene così Grazie Matteo Regalano palla agli avversari Quarto uomo Esibisce il tabellone Due minuti di recupero Vediamo cosa inventa ora Occhio da lì Vediamo cosa fa ora È stato fermato dal difensore Triplice fischio Così può bastare Una vittoria fantastica Che consente È stato fermato dal difensore Grazie a tutti 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 Buona Fritz Grazie a tutti 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 De Rossi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Scherz Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fuori gioco Grazie a tutti 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 Massimo Massimo Grazie a tutti 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 Pallone Grazie a tutti Unizione Grazie a tutti Grazie a tutti Buon pallone Grazie a tutti 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 Fuori misura Grazie a tutti